Sono le varianti del Covid-19 ad aver causato la metà dei contagi rilevati nelle province di Pescara e Chieti tra giovedì e venerdì della scorsa settimana. A rivelare l'incidenza delle nuove tipologie di SARS-CoV-2 ed in particolare della variante inglese è uno studio voluto dall'Istituto Superiore di Sanità e realizzato dal Laboratorio di Genetica Molecolare Test Covid-19 dell'Università di Chieti assieme all'Istituto Zooprofilattico di Teramo, struttura che ha sequenziato le mutazioni del virus. Lo studio si compone di tre fasi, la prima per individuare la sospetta presenza di una variante, la seconda per cercare il tipo di variante e se sia già noto, la terza per valutare se vi siano tracce di varianti al momento non note. Per quanto concerne la variante inglese la diffusione sul territorio era stata già accertata ma la conferma sulla tipologia di variante arriverà comunque dalla seconda fase di questa indagine. Secondo il direttore del Laboratorio Teatino, Liborio Stupia, la diffusione delle varianti e queste percentuali spiegano la crescita repentina dei casi registrati nelle ultime settimane nelle province di Pescara e Chieti e in particolare nell'area metropolitana. Infatti qui il virus sta circolando in modo rapidissimo e con numeri preoccupanti, tanto che la provincia di Pescara è una tra quelle con la maggiore incidenza negli ultimi giorni in tutta Italia. I numeri del bollettino testimoniano la crescente contagiosità del virus oggi soprattutto nella provincia di Chieti. 314 sono i nuovi casi in regione rispetto all'analisi di 4.370 tamponi molecolari e di 7.637 antigenici rapidi per un tasso di positività complessivo del 2,6%. Crescono ancora i ricoveri sia in area medica che in terapia intensiva, 5 in più nelle corsie covid degli ospedali regionali, 496 i posti letto occupati, mentre uno in più in terapia intensiva con 5 nuovi ricoveri per un'occupazione di 52 unità. Aumentano ancora i decessi, sono 7 nelle ultime ore, con il totale delle vittime da inizio emergenza a quota 1.533. Infine in lieve crescita gli attualmente positivi sono 58 in più per un totale di 10.807.